questa sera chiedo l'aiuto del pubblico voglio una risposta perché io non me la so proprio dare quindi dovete venirmi in aiuto allora parliamo di treni quando negli anni 80 andavo a scuola io prendevo tutti i giorni il treno che andava dalla stazione di ponte fino a quella di sondrio andata e ritorno se passava per due volte al giorno davanti al passaggio a livello dei trippi sì quello che oggi arriva alla fine della tangenziale di sondrio questo passaggio a livello rimaneva chiuso 30 secondi ed è stato così fino a circa due anni fa quando poi ci sono stati i lavori di ristrutturazione di sistemazione di questo passaggio a livello perché comunque aveva sempre bisogno di manutenzione ebbene oggi grazie a questi lavori di ammodernamento questi lavori che hanno fatto fare un passo avanti alla sicurezza alla viabilità questo passaggio a livello oggi resta chiuso per più di due minuti qualcuno mi spieghi il perché di questa cosa perché oggi mi sono trovata per l'ennesima volta in coda sulla tangenziale ad aspettare che passasse il treno per fortuna che il treno passava che andava a tirano quindi vorrei sapere perché c'è stata questa miglioria al contrario